Il termine farmacologia deriva dal greco antico pharmakon che significa rimedio e logos che significa discorso. Per capire sufficientemente la farmacologia si devono comunque possedere nozioni di base di fisiologia, biochimica, anatomia umana e patologia. Possiamo definire la farmacologia come quella branca della biologia che studia l'interazione e gli effetti prodotti dalle sostanze chimiche introdotti negli organismi viventi, siano essi rappresentati dall'uomo o dagli animali. L'obiettivo che ci si pone introducendo queste sostanze, cioè i farmaci, è quello di apportare effetti benefici, ma è anche vero che si possono anche avere e manifestare effetti tossici o dannosi. Gli effetti benefici si raggiungono con la somministrazione di tali sostanze entro determinate dosi terapeutiche, ma se si superano questi dosaggi l'effetto ricevuto può risultare dannoso per il nostro sistema. Un discorso a parte viene poi effettuato per quanto riguarda i veleni perché sono comunque delle sostanze che causano sempre e a qualsiasi dose un effetto nocivo o un effetto tossico. Nell'ambito della farmacologia esistono diverse branche di studio rappresentate dalla farmacocinetica, dalla farmacodinamica, dalla farmacogenetica e da molti altri ancora, ma andiamole ad analizzare uno per uno. La farmacocinetica studia i processi di cui il farmaco è sottoposto dall'organismo, dalla sua assunzione fino alla sua eliminazione. Comprende quattro diverse fasi rappresentati dall'assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione note con l'acronimo di ADME. La farmacodinamica invece studia come una molecola produce un determinato effetto su un organismo. La farmacogenetica studia l'influenza dei geni sulle attività delle medicine sull'organismo. La tossicologia si interessa delle molecole che hanno un effetto nocivo sull'organismo. La farmacovigilanza invece monitora i farmaci in commercio per andare a individuare eventuali effetti collaterali non registrati durante la fase di sperimentazione. Altre branche sono rappresentate dalla farmacoeconomia, dalla farmacoterapia e dalla farmacognosia. Un farmaco o medicinale è una sostanza o un'associazione di sostanze che vengono ad essere utilizzate per curare o prevenire una determinata malattia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce farmaco una qualsiasi sostanza o un qualsiasi prodotto che viene ad essere utilizzato per modificare sistemi fisiologici o patologici, quindi un qualsiasi prodotto che viene ad essere utilizzato a scopo terapeutico o a scopo diagnostico, con la caratteristica che danno beneficio a coloro che li ricevono. I termini farmaco medicinali e prodotto medicinale sono stati utilizzati nel corso degli anni come sinonimi. Di recente però si preferisce utilizzare il termine medicinale, termine impiegato anche nelle direttive comunitari che disciplinano questo settore. Per medicinale si intende ogni sostanza o una qualsiasi associazione di sostanza avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, oppure ancora si intende una qualsiasi sostanza o una qualsiasi associazione di sostanze che viene ad essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche che sono state alterate. In altre parole un farmaco o medicinale serve essenzialmente per prevenire, curare, guarire, diagnosticare. Tutti i medicinali o farmaci sono costituiti da principi attivi e da diversi eccipienti. Il principio attivo rappresenta la componente principale da cui dipende l'azione curativa. Può essere tanto una sostanza sintetica, semisintetica o naturale e può essere dotata di attività avente effetto terapeutico nel caso dei farmaci, effetto tossico nel caso dei veleni, effetto benefico nel caso di probiotici, vitamine, integratori alimentari eccetera. Gli eccipienti sono invece dei componenti inattivi del medicinali che sono privi di qualsiasi azione farmacologica. Hanno fondamentalmente il compito di proteggere il principio attivo che potrebbero danneggiarlo, come ad esempio il caldo, il freddo, l'umidità. Hanno inoltre lo scopo di aumentare il volume del farmaco per consentire la preparazione di compresse o di qualsiasi altra forma farmaceutica di dimensioni accettabili. Hanno ancora il compito di facilitare l'assorbimento del principio attivo nell'organismo e infine hanno il compito di rendere il sapore dei medicinali più gradevole. Tra i più comuni eccipienti ricordiamo il lattosio, il glucosio, il saccarosio, il caolino, il talco eccetera. Un farmaco viene generalmente messo in commercio dalle industrie farmaceutiche utilizzando un nome di fantasia. Questo medicinale può essere presente sul mercato sotto forme diverse che differiscono tra di loro o per quanto riguarda la forma farmaceutica, cioè compresse, supposte, sciroppe o per quanto riguarda il dosaggio. Le specialità medicinali possono essere monocomposte nel momento in cui sono caratterizzate dalla presenza di un solo principio attivo o policomposte nel momento in cui contengono più di un principio attivo. In base all'azione indotta i medicinali possono essere classificati in sintomatici nel momento in cui agiscono sui sintomi della malattia. Un esempio di ciò è rappresentato dai farmaci anti-influenzali. Possono essere causali o eziologici nel momento in cui agiscono sulle cause della malattia. Esempio gli antibiotici possono essere patogenetici allorché agiscono sui meccanismi della malattia come i farmaci antipertensivi oppure i farmaci anti-aritmici. possono essere distinti in farmaci sostitutivi nel momento in cui ripristinano funzioni dell'organismo che vengono ad essere alterate dalla malattia tipo l'insulina e poi possono essere anche farmaci preventivi come il caso dei vaccini. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha stabilito che esistono tre diversi gruppi di farmaci, dette fasce, all'interno dei quali devono essere inseriti tutte le medicine disponibili sul mercato. Circa una volta al mese l'Agenzia pubblica un aggiornamento della classificazione ed è quindi possibile che un prodotto subisca un cambio di categoria passando da una fascia all'altra. In generale la suddivisione che viene ad essere adottata è la seguente. Abbiamo una fascia A all'interno della quale sono presenti farmaci essenziali per le malattie croniche. Sono presenti quei farmaci che noi comunemente definiamo come farmaci che vengono passati dallo stato. Sono infatti a carico del sistema sanitario nazionale anche se potrebbe essere previsto in alcuni casi un ticket soprattutto su base regionale. Poi abbiamo la fascia C, sono quei farmaci che curano patologie di lieve entità da cui non dipende la sopravvivenza del paziente. Sono tutti a carico del cittadino e quando vengono prescritti sono inseriti all'interno della classica ricetta bianca. E poi abbiamo i farmaci di fascia H. I farmaci compresi in questa categoria possono essere somministrati solamente negli ospedali o in ambulatori specializzati. Solitamente si tratta di medicine dal metodo di somministrazione particolare oppure prodotti innovativi o sperimentali. Fino a poco tempo fa esisteva anche una fascia B che è stata rimossa e che comprendeva farmaci utili ma non essenziali sui quali la regione poteva scegliere se applicare un ticket o meno. Vista l'elevata discrezionalità delle regioni queste medicine sono poi confluite nelle categorie esistenti cioè nella categoria A o nella categoria C. Un discorso a parte meritano gli antinfiammatori. Normalmente devono essere pagati perché considerati farmaci non salvavita ma nel caso siano prescritti per curare patologie come le artrosi, la gotta o una forma di tumore diventano farmaci gratuiti. Questo perché rientrano nella classificazione delle malattie croniche e quindi ottengono la fascia A. La maggior parte dei farmaci utilizzati oggi viene ad essere preparata attraverso un processo di sintesi chimica, di semisintesi oppure utilizzando delle biotecnologie. Si parla di sintesi chimica quando i farmaci vengono preparati direttamente in laboratorio. Si parla di semisintesi quando il farmaco derivato per sintesi naturale viene modificato leggermente per essere reso più stabile migliorandone così la permanenza all'interno dell'organismo. Si parla invece di farmaci prodotti mediante biotecnologie quando si fa riferimento a molecole che vengono prodotte utilizzando e codificando specifici geni in linee cellulari normalmente di batteri o di lieviti. A queste categorie appartengono quindi i principali farmaci di oggi come le small molecules ovvero farmaci che terminano con l'indicazione inib, gli anticorpi che terminano in Mab ed ormoni ricombinanti come per esempio l'insulina. I medicinali in base al processo di preparazione possono distinguersi in medicinali galenici preparati in farmacia, medicinali di origine industriale e medicinali generici o equivalenti. I medicinali galenici allestiti in farmacia a loro volta possono essere distinti in galenici magistrali se vengono preparati in base ad una prescrizione medica destinata ad uno specifico paziente o in medicinali galenici officinali se preparati in farmacia sulla base di indicazioni della farmacopea europea e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da questa farmacia. I medicinali di origine industriale sono quei medicinali che vengono preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale. Questi medicinali hanno una propria denominazione che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Infine abbiamo i medicinali generici o equivalenti. Si tratta di medicinali bioequivalenti rispetto a dei medicinali di riferimento che presentano però un brevetto scaduto. Il medicinale generico o equivalente ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di principi attivi, la stessa forma farmaceutica, la stessa via di somministrazione e le stesse indicazioni terapeutiche. Anche medicinali generici sono sottoposti agli stessi controlli e alle stesse procedure di registrazione e vigilanza che l'Agenzia Italiana del Farmaco riserva a tutti i tipi di farmaci in commercio. La protezione offerta dal brevetto permette all'azienda che ha sostenuto i costi di ricerca e di lancio di un determinato farmaco innovativo di mantenere il monopolio nella vendita di questo farmaco per un certo periodo di anni. Al termine del periodo di protezione brevettuale un farmaco può essere prodotto da altre aziende farmaceutiche e offerto sul mercato ad un prezzo inferiore di circa il 20%. In base invece a come possono essere distribuiti al pubblico i medicinali possono essere suddivisi in tre diverse categorie. Abbiamo pertanto farmaci a prescrizione medica, detti anche farmaci etici o farmaci con ricetta, da vendersi solamente dietro prescrizione medica per i loro effetti o per la loro potenziale tossicità. Quindi devono essere usati sotto il controllo del medico tramite la prescrizione che indica in che quantità devono essere presi giornalmente per quanto tempo e sotto quale forma. La ricetta testimonia che il malato è stato visitato da un medico il quale ha ritenuto utile per le sue condizioni di salute prescrivere quel determinato tipo di farmaco da assumere secondo precise indicazioni. Altra categoria è rappresentata dai farmaci da banco, detti OTC dall'inglese over the counter, da vendersi anche senza ricetta. In Italia per questa tipologia di farmaci è ammessa pubblicità. Altra categoria di farmaci ancora sono i farmaci SOP senza obbligo di prescrizione. Per loro non è prevista la prescrizione medica e non è consentita alla pubblicità. Possono essere venduti tanto in farmacia quanto in parafarmacia su diretto consiglio del farmacista.